Ciao, oggi vi mostrerò una piccola necropoli risalente al IV-V secolo d.C. situata nel parco naturale dei lagoni di Mercurago presso Comignago Novara a Rona. Grazie a tutti. Qui potete osservare una nicchia dove venivano riposti vari oggetti destinati ad accompagnare il defunto durante il suo viaggio nell'oltretomba. Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ciao.